Benvenuti a TeleCRU, notiziario di informazione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Assemblea Legislativa ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con i 13 voti favorevoli da parte della maggioranza, una astensione e i 5 voti contrari da parte della minoranza. La manovra, pur in un contesto difficile e senza alzare le tasse, continua a sostenere le famiglie e le imprese con misure importanti. Per le famiglie il bonus bebè, il rimborso delle rette da 0 a 6 anni, borse di studio da 6 ai 18 e per gli universitari, voucher per lo sport e per i centri estivi. Questo anche grazie al Fondo Sociale Europeo con l'avvio del nuovo settennato dei fondi comunitari che porterà 813 milioni all'Umbria. Inoltre è in via di perfezionamento l'accordo di coesione da 237 milioni di euro per la riqualificazione urbana, soprattutto per edifici di particolare interesse come l'ex ospedale di San Florido a Città di Castello e per investimenti sul polo chimico ternano. Il bilancio punta a sostenere lo sviluppo economico e la competitività delle imprese. Sono previsti 3 milioni e 2 per far fronte alle spese per le elezioni regionali previste alla fine del prossimo anno. Secondo gli accordi presi in conferenza Stato-Regioni, l'Umbria contribuisce annualmente alla finanza pubblica per 3,4 milioni di euro. A questi per il 2024 si aggiungono ulteriori 6,2 milioni, previsti anche 50 milioni alle regioni come contributo per investimenti che per l'Umbria significano 980 mila euro per opere pubbliche e interventi di viabilità. Su trasporti e viabilità c'è un incremento di 6 milioni di euro nel 2024 per il trasporto pubblico locale, 500 mila euro per il minimetro, 525 mila euro per il servizio di abbonamento annuale agevolato per gli studenti universitari. Conferma nel triennio 2024-26 di 3 milioni di euro all'anno alle province per la manutenzione delle strade regionali e 1 milione per le altre strade. Confermati 4 milioni di euro per il 2024 all'aeroporto San Francesco d'Assisi, per il turismo c'è un incremento di 300 mila euro per interventi di promozione, per le politiche culturali, 50 mila euro in più allo spettacolo, 50 mila per le biblioteche, 30 mila per il sistema museale, 20 mila per le manifestazioni storiche, 150 mila per l'istituto musicale Bricialdi di Terni, per l'agricoltura, incremento di 20 mila euro per fiere mostre, mercati e manifestazioni, 150 mila euro per l'organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche, incrementi di 120 mila euro per il piano forestale regionale, 100 mila per le associazioni degli allevatori, 50 mila a sostegno della pesca professionale. Per il sociale rifinanziamento di 250 mila euro all'invecchiamento attivo, incremento di 50 mila per il contributo alla fondazione Umbria contro l'usura, rifinanziamento come detto al bonus bebè e un milione per il fondo per la non autosufficienza. In sanità ci sono 500 mila euro per gli indennizi ai soggetti danneggiati da emoderivati e il cofinanziamento del 5% nel 2024 del programma di edilizia sanitaria. Per lo sviluppo economico rifinanziamento di 50 mila euro all'artigianato, incremento di 386 mila euro alle unioni dei comuni, 10 mila euro al premio sagra eccellente dell'Umbria, 70 mila per la cooperazione. Per ambiente e territorio 100 mila sono per la manutenzione del demanio idrico regionale, un milione e mezzo per la manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua del reticolo idrogeologico regionale. Per il rilancio degli investimenti pubblici, confermati 15,4 milioni nel 2024 e 14,6 milioni nel 2025, cui si aggiungono 574 mila euro nel 2024, 1,6 milioni nel 2025 e 7 milioni nel 2026. Per tutti gli investimenti ci sono 4,1 milioni all'anno. Confermato per l'agricoltura il cofinanziamento del PSR 2024 per gli investimenti e le aziende agricole UB. Politica, il Partito Democratico ha incontrato i giornalisti nel tradizionale incontro di fine anno per illustrare le attività svolte nel 2023. Economia e lavoro, sanità e sociale, ambiente e territorio, questi temi individuati come prioritari dai consiglieri regionali del Partito Democratico. Prima della conferenza stampa è stato ricordato con un minuto di silenzio Enzo Santucci, tesoriere del Partito, ex amministratore a più livelli e, come ha sottolineato Tommaso Bori, punto di riferimento per molti di noi. Le priorità sono la sostenibilità economica, sociale ed ambientale e sicuramente l'innovazione, innovazione che diventa una chiave per lo sviluppo e per l'occupazione. Abbiamo parlato anche in serie di documento di economia e finanza e di bilancio e riteniamo che oggi in Umbria alcuni diritti, come in primis quello alla sanità, sono stati negati, ce l'ha ricordato anche la Corte dei Conti, sono negati o sono stati comunque indeboliti. Quando parliamo di sanità discuteremo a gennaio di una nostra proposta di legge che cerca di riequilibrare sia la parte finanziaria che la parte relativa alle risorse umane. Vediamo come c'è stata una mancanza programmazione e lo dimostrano i 18 direttori che si sono alternati. C'è uno svuotamento della medicina del territorio e c'è ovviamente una mancanza totale di programmazione e quindi di visione per il futuro e quindi anche le mancate assunzioni lo stanno testimoniando. In questi giorni il tema molto caldo è anche quello della scuola. Noi pensiamo che la scuola e l'istruzione e la formazione dei nostri ragazzi siano fondamentali. Il tema del dimanzionamento scolastico abbiamo presentato alcuni atti anche insieme alle forze di minoranza e riteniamo che sia vero che 57 comuni sono 92, sono area interna, dobbiamo fare di tutto per conservare i servizi e per conservare soprattutto il presidio scolastico che è un presidio di vita e veramente vitale per i nostri centri. Il tema dei giovani è un tema che secondo noi è stato trattato troppo poco e approfondito troppo poco. 3.000 giovani che si formano in Umbria poi vanno a lavorare nelle altre regioni. C'è un alto numero, già molto alto in Italia in percentuale, che è quello di giovani che non lavorano e che non studiano. Nella provincia di Terni il dato è ancora più allarmante rispetto a quella di Perugia e anche su questo avremmo sperato e pensato che le proposte avanzate dal governo della regione fossero sicuramente più incisive ma soprattutto più di medio e lungo termine. E quello che noi ci aspettavamo fosse uno scatto in avanti anche rispetto alle politiche interregionali, rispetto al tema dell'Italia mediana e cosa che non sta avvenendo. Il tema delle infrastrutture a parte l'FCU sostanzialmente siamo fermi al palo su tutto. La Orte Falconara addirittura era stata cassata dal Ministro Fitto. Il tema delle aree urbane e anche lì sostanzialmente i maggiori centri urbani dell'Umbria che sono Perugia e Terni, anche lì maggiore coesione sociale, maggiore investimento in un piano sociale che oggi vede aumentare anche la povertà all'interno delle famiglie. Quella coesione sociale che ancora oggi resiste nei piccoli bordi che però a causa anche di politiche secondo noi non adeguate rischiano di svuotarsi e di spopolarsi. Il tema della sicurezza che è stato un cavallo di battaglia anche delle politiche del centro-destra vede oggi la città di Perugia al 72 posto e vede comunque il grido di allarme anche dell'imprenditoria Umbria, come ho ricordato anche nella relazione al bilancio di qualche giorno fa. Quindi la nostra visione dell'Umbria per i prossimi anni vede mettere in campo quelle proposte che abbiamo portato avanti in questi anni e che si sono tramutati in atti concreti, in interrogazioni, in mozioni, in proposte di legge che sono rimaste ferme o addirittura bocciate. Gli investimenti in sanità, in scuole ricerca e nel mondo delle imprese e del lavoro sono sostanzialmente un terzo di quelli che sono gli investimenti che fanno le altre regioni. Parlo della sanità, ad esempio, l'1,4% contro la media del 4,40% nazionale. Quindi per evitare che si scivoli sempre di più verso una regione del meridione, l'Umbria oggi ha due possibilità, o quella di rassegnarsi o quella di veramente mettere in atto, in azione e in campo, tutte le migliori energie e maggiori risorse, soprattutto per tornare ad essere una regione competitiva nell'Italia mediana e anche in Italia. Tommaso Bori ha ricordato la proposta del PD chiamata Umbria studiata per studiare, di cui alcune cose, ha detto, si sono tramutate in realtà come l'abbonamento unico per studenti e mi auguro anche la soluzione del problema della mobilità notturna, affinché la vita non sia solo studio. Occorre garantire il diritto allo studio e sviluppare politiche adeguate che riguardino menze, alloggi, borse di studio. Tra breve depositeremo anche un'altra proposta, Umbria Creativa, che riguarda la cultura, una vera industria che può crescere. Per Michele Bettarelli c'è da fare molto e smentire quello che viene venduto, cose che non sono meriti della maggioranza, ha detto. Vedi i finanziamenti per l'EI45 avviati dal governo Renzi. Si dice che l'EI78 è fatta, ma non è così. I sindaci hanno dato completa disponibilità, ma il progetto non c'è. Inutile mettere a bilancio la guinza se non c'è un progetto nel tratto Umbro. Sull'ex ospedale di città di Castello i soldi sono stati chiesti, ma non sono a bilancio. L'ultimo errore è quello fatto sul bilancio, sull'emendamento che permette di andare con mezzi a motore nei boschi, un atto che susciterà forti mal di pancia e a profili di inammissibilità, prevedibili contenziosi con i privati per la cartellonistica e i soli 10.000 euro per tre anni. La commissione d'inchiesta dell'Assemblea legislativa, denominata Analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio e narcotraffico, ha incontrato il prefetto di Terni, Giovanni Bruno, per una audizione sulla situazione relativa alla sicurezza nella provincia di Terni. Il servizio. Siamo in dirittura d'arrivo, oggi abbiamo l'onore di ricevere il prefetto di Terni. La proposta di legge è in dirittura d'arrivo, ci abbiamo rimasto di ricevere il presidente dell'osservatorio, Walter Cardinali, però appunto un lavoro importante. Abbiamo condiviso i lavori con tutte le persone audite, e quindi procuratori, prefetti, questori ed anche addetti ai lavori con i professori universitari. Direi che il quadro è quello di una regione legalmente sana, però tutti ci hanno detto che bisogna sicuramente tenere le antenne dritte e la guardia alta. Penso che il lavoro sia un lavoro importante, sia riuscito bene, andremo in prima commissione i primi mesi dell'anno, ovviamente dopo che sarà stata avviata l'intero del lavoro dalla commissione. Quindi siamo in dirittura d'arrivo e siamo tutti molto soddisfatti. Dalla relazione del prefetto, insediato sia a Terni a maggio 2022, è emerso un quadro che non evidenzierebbe la presenza di strutture consolidate e riconducibili alla criminalità organizzata e mafiosa, un rischio che però non può essere escluso a priori e che quindi richiede un'attenzione costante e un monotiraggio attento rispetto alle possibili infiltrazioni nel tessuto economico provinciale. Per le mie esperienze per Gresse posso benissimo dire che certamente sul territorio al momento non risultano drine o associazioni mafiose apparentemente visibili e quindi certamente bisogna non mai abbassare la guardia perché ovviamente oggi le tecnologie permettono tante di quelle sfaccettature, anche per esempio, per fare un esempio, le criptovalute, è una nuova forma di tecnologia che permette certamente di insinuarsi nella parte economica. Quindi nella sostanzialità, a parte lo spaccio di droga che è palese e come in tante altre città, certamente non c'è una visibilità assoluta di infiltrazione sul territorio ternano, pur essendoci 21 multinazionali e tutto l'indotto delle acciaerie che ha un valore economico non indifferente. Giornata di studi a Perugia indetta dal Corecom dell'Umbria e dall'Università degli Studi di Perugia dedicata alle ipotesi di riforma della legge 28-2000, meglio nota come par condicio, con interventi da parte di diversi docenti di alcune università italiane e di Teresa Perrucci della Direzione Servizi Media della Gcom, cioè l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In occasione di ogni tornata elettorale, il Corecom si trova a gestire sul campo le segnalazioni di presunte violazioni della normativa in vigore. Pertanto, ha detto la Presidente del Corecom Umbria, Elena Veschi, ha avvertito come particolarmente pressante l'esigenza di effettuare una seria riflessione e un approfondimento sugli aspetti riguardanti l'applicazione della legge 28, anche alla luce del fatto che sono ormai alle porte le elezioni per il Parlamento europeo, per la Regione e per 60 comuni dell'Umbria. L'articolo 2, ha spiegato la Presidente del Corecom, enuncia quello che oggi è avvertito come il principale limite della legge 28 del 2000, cioè il fatto che essa si riferisce solo al mezzo radio televisivo. La stampa quotidiana e periodica è considerata l'articolo 7 in relazione alla pubblicazione di messaggi politici elettorali nel periodo di campagna elettorale, mentre Internet è addirittura escluso dalla disciplina. Proprio in merito alla comunicazione istituzionale, il punto centrale della questione consiste, ha spiegato Elena Veschi, nel riuscire a tracciare una linea di confine sufficientemente chiara e apprezzabile tra l'attività di propaganda e l'attività di informazione svolta dalle amministrazioni nel periodo di campagna elettorale. Da un lato evitare che gli uscenti godano di una rendita di posizione rispetto agli sfidanti e un uso distorto quindi di risorse e denaro pubblico. Dall'altro assicurare che le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, aventi il carattere della indispensabilità, possano essere lese nell'interesse dei cittadini all'informazione. La complessità in questo caso, come in molte altre fattispecie, in cui la libertà di informazione si scontra con diritti meritevoli di tutela, consiste nell'individuare il ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi in gioco. Di fatto, le pubbliche amministrazioni sono limitate alla sola comunicazione di fatti essenziali allo svolgimento dell'attività istituzionale e in forma anonima, cioè senza nominare partiti e politici, né mostrare foto, video e marchi, tagliando tutta la comunicazione politica e rendendo quella indispensabile di difficile comprensione per utenti e cittadini. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della regione e disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Grazie per la vostra attenzione e 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 Grazie per la vostra attenzione e